Ciao, sono Gioca Bocci e oggi sono qui per un video purtroppo triste. Infatti, Kikblog, il blog di fotografia dove ho mosso i miei primi passi come autore appunto di articoli di fotografia, è fallito. Non c'è più. Morto. Defunto. Una notizia terribile che mi è arrivata il 22 dicembre, una notizia se vogliamo anche indelicata, perché io in fondo di lavoro non faccio l'autore di articoli di fotografia, sono principalmente un informatico nella sanità. Mentre ci sono persone che facevano soltanto quello, il 22 dicembre, il venerdì prima Natale, hanno avuto questo terribile regalo Natale. Si sono trovati disoccupati all'improvviso e a queste persone io mando un abbraccio virtuale che di più purtroppo non si può fare. Sono stati indelicati quelli della gestione perché li hanno messi per strada in un periodo in cui è anche impossibile andare a cercare un altro lavoro. A loro faccio un abbraccio in bocca al lupo per trovare subito un altro lavoro. Ma dal mio punto di vista ci sono 1236 articoli che ho scritto per Kikblog e adesso ho il terrore che vadano persi. E comunque voglio dirvi una cosa a voi. Grazie, grazie, grazie. Il mio primo articolo era del 31 agosto del 2011 e dall'inpoio ho conosciuto tante persone che mi hanno apprezzato, mi hanno fatto poi scrivere per tante altre testate. E alcune di queste persone voglio ringraziarle. Voglio ringraziare a Gianluca Pezzi che mi ha fatto entrare nella redazione Kikblog. Voglio ringraziare a Gabriele Ferraresi che mi ha insegnato a scrivere correggendomi in maniera anche un po' cattiva parola per parola. Voglio ringraziare anche Valentina Colazzo che mi ha insegnato anche a scrivere in modo che i motori di ricerca mi trovino e vi facciano apprezzare quello che scrive. E voglio anche ringraziare, lo so, tantissimi nomi ma persone splendide, questo è stato il bello di questa esperienza, come Simona Varani e Serena Vasta che sono state le colleghe con cui ho condiviso questo spazio insieme a tante tante altre persone. Ma appunto, ringrazio tutti, ma io non mollo, io sono ancora qui a parlarvi di fotografia. Infatti potete leggere sempre sulle pagine delle riviste cartacee come Photocult, come Tutti i fotografi, come Progresso fotografico, oppure sul web, sulle pagine di photojournal.it, oppure ovviamente qui su YouTube, su questo spazio a cui ovviamente andrò a dedicare sempre più energia. Quindi, ClickBlog se n'è andato, morto un re, se ne fanno altro. Mi dispiace, spero che il curatore fallimentare e faccia il suo lavoro in modo che chi ha perso il lavoro prenda tutti i soldi che comunque gli spettino e magari i server vengano venduti a qualcuno che prenda il valore di ClickBlog che è stato gestito malissimo negli ultimi anni e gli ridè a vita. Quindi, speriamo che comunque sia soltanto una pausa per ClickBlog, non sia una morte definitiva di tutti i miei 1236 articoli. C'erano dentro splendide recensioni, c'erano dentro bellissime interviste, c'erano dentro anche delle polemiche con cui mi sono davvero divertito e forse ho fatto anche qualcosa di utile. Comunque, voi che mi seguite, continuate a seguirmi qui su YouTube, iscrivetevi cliccando sul bollino qui in alto e andate subito a vedervi un altro video qui accanto. E comunque a tutti i miei follower vecchi e nuovi, grazie, grazie, grazie.